La stella che ha brillato a onore della scienza in difesa dei deboli e dei diritti di tutti. Non può spegnersi il suo esempio. Lo ha affermato la presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, esprimendo il suo più profondo cordoglio per la scomparsa dell'astrofisica Margherita Hack. Margherita Hack è stata un patrimonio dell'umanità, ha aggiunto Serracchiani, ma per tutti noi era anche una presenza consueta e rassicurante, uno di quei punti di riferimento con i quali talvolta si può non essere d'accordo, ma cui alla fine si guarda sempre con rispetto e affetto. A nome di tutto il Friuli Venezia Giulia, con vera commozione, ha concluso Serracchiani nel ricordare Margherita Hack, voglio assicurare che la nostra comunità regionale non lascerà che la sua eredità morale vada dispersa. Una grande donna e una gran bella persona, una scienziata. Credo che sia stata una persona importante non solo per questa regione, ma per tutto il Paese.